Buonasera cari avievi, se siete giunti fino a questo punto del testo significa che siete molto molto simili a me, il che diciamolo onestamente è per voi una benedizione. Io sono Socrate ma non soffriamoci troppo a parlare di me, perché non ci facciamo una bella passeggiata sotto il sole il cuocente di Atene. Mi raccomando non fate troppo caso se vedete una strana donna che ci fissa maligna, è solo quella squillibrata di mia moglie. Iniziamo il nostro dialogo e vi pongo una semplicissima domanda, basica proprio. TST. Ma come? Non sapete davvero cosa significa? Volete seriamente costringermi a rivalutare quello sciocco di Platone? Proprio lui che non riesce a smettere di scripacchiare se vuoi spalarlo per più di 5 minuti? TST significa semplicemente che cos'è? Ma su, non siate timidi, parlate pure con me, io non vi giudicherò, non vi criticherò, accepterò le vostre ipotesi e anzi, le argomenterò, ma questo solo perché io sono come un'ostetrica. Non guardatemi così. Posso definirmi tale solo perché, come le ostetiche fanno partorire i figli e le madri, esattamente come io, faccio partorire agli uomini?